Ciao, oggi qui a casa mia nevica, finalmente, una prima giornata d'inverno e quindi mi è venuta voglia di cantare la neve. Ci sono dei fiocchi grandi che scendono, che danno l'impressione di essere morbidi e apparentemente anche caldi, che sono bianchi, bianchi, bianchi. Se vuoi puoi chiudere gli occhi, fare un bel respiro profondo, connetterti col tuo cuore e lasciare che le vibrazioni del canto portino questa luce bianca, questa freschezza e calore allo stesso tempo, è ciò che ti arriva all'interno di ogni tua più piccola cellula, all'interno di ogni organo, di ogni emozione, di ogni pensiero, che ti portino a regalo per questa giornata, già di cui hai bisogno. Alla prossima 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 Alla prossima